Questa mattina vogliamo riflettere sulle due altre fonti di consolazione per completare il quadro dell'esorgente e prendiamo l'avvio da quel ritornello che noi cantiamo oppure recitiamo ogni giorno subito dopo la consagrazione. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Tre realtà. L'annunzio della morte del Signore, la proclamazione della sua resurrezione, l'attesa della sua venuta. Ci resta ancora a parlare dell'annunzio della morte di Cristo, cioè nella partecipazione alla passione del Signore, perché la passione del Signore è fonte di consolazione per noi. Per noi che siamo morti è una verità che non dobbiamo dimenticare. Paolo insiste proprio su questa morte nostra. Col battesimo noi siamo stati sepolti in Cristo. Il nostro vecchio uomo è stato sepolto e per la forza della morte di Cristo che ha distrutto il nostro peccato e l'uomo vecchio. Noi siamo creature nuove. Voi siete morti, dice Paolo. è per questo che il peccato non può più rivivere in voi. Siete dei morti, non avete più nessun diritto, ma siete dei vivi, viventi in un altro, viventi in Cristo e Gesù. le cose vecchie sono passate, sono andate delle nuove. Voi siete nuova creatura, creatura nel Signore, ma in quanto a voi siete dei morti. Questa verità noi dobbiamo viverla e dobbiamo recuperare così asceticamente questa dimensione che noi veramente nello spirito tante volte dimentichiamo. Proprio alla dimensione ascetica della vita nello spirito. per cui concilizziamo ancora in noi l'uomo vecchio, mortificato, dice l'Apostolo in tante lettere, filippesi, conossesi, quello che in noi, l'uomo vecchio, perché siete creature nuove, non ci trovi in voi più, quello che appartiene all'uomo vecchio, non prolificano più dentro di voi i frutti della carne di cui l'Apostolo e Garte ci danno l'elenco. Siamo creature nuove. E questo avviene nella assimilazione nostra alla morte di Cristo. Contempliamo Gesù crocifisso e giochiamo quando vogliamo il nostro vecchio uomo stremperarsi. Coloro che sono in Cristo Gesù, dice l'Apostolo ancora in Garte, hanno crocifisso la propria carne con le vizie e le passioni, perché la morte di Cristo risplende in noi. E diceva ancora Paolo, io porto le stimmate, le piaghe, del mio Signore Gesù nel mio corpo. Il vero carismatico era un crocifisso. Si è messo davanti a Gesù crocifisso. Lo ha contemplato, lo ha immedesimato ed è diventato un crocifisso nella vita. Nei grandi santi la contemplazione di Gesù crocifisso, fonte di gioia, diventava anche così visibile materialmente nel corpo. pensate a San Francesco, pensate a Padre Pio, pensate a Newman, Teresa. Contemplavano la passione del Signore, la contemplazione era così viva che le piaghe del Signore ricomparivano nel loro corpo. Francesco, due anni prima di morire, mentre eri in digiuno, faceva sette quaresime ogni anno, sette quaresime, che si chiedeva, sette quaresime, dura, mentre celebrava una quaresima in un'ora di Michele Arcangelo e quel crocifisso che, e avanti si occhi sulla verna, parte dal costato un raggio, dalle mani di piedi un raggio, un raggio che è come un laser, che penetra nel cuore, nelle mani, nei piedi di Francesco. Egli è crocifisso. Ma perché è crocifisso? È invisibilizzazione, manifestazione esterna di una crocifissione interna. Egli vive ed è crocifisso, ha vissuto il crocifisso, ha portato la morte di Cristo dentro di sé, ha celebrato la morte di Cristo nel suo corpo e nel suo spirito. Così anche Padre Pio, quando celebrava la messa, che doveva molto, i suoi mani si arrossavano, il suo cuore non dava ancora sangue, i suoi piedi non fiavano, aveva destimbate, ma le stimbate si rinnovavano. Perché viveva la passione del Signore e così di tanti altri santi. Contemplare il crocifisso. Ma non è sufficiente contemplare il crocifisso, ma vivere il crocifisso. Noi siamo dei crocifissi. Il Padre ama figli crocifissi. Non si conosce altro Cristo. Diceva Paolo, io conosco Cristo e Cristo crocifisso. Il Padre del Cielo vuole vedere il crocifisso e quando ci vede il crocifisso il suo sguardo amoroso scende su di noi. ecco che significa portare la croce di Cristo, cioè la morte di Cristo nei nostri corpi. Dobbiamo recuperare fratelli e sorelle questa dimensione ascetica nei gruppi di rinnovamento. Abbiamo l'illusione iniziale che già siamo arrivati. Siamo già arrivati all'unione mistica. Abbiamo le visioni. Abbiamo la profezia. Abbiamo tanti doni che sono caratteristici di una vita molto alta nello spirito. Ma questi non sono doni mistici. Sono doni carismatici che servono per gli altri. Abbiamo c'è una bella preghiera ma la preghiera come non ci invita aiuta a riuscire la vita nello spirito, a dare un supporto alla preghiera nella nostra vita perché la preghiera aggancia la vita. Altrimenti diventerà farsa. Il Signore che ci dà uno spintone ci coni che nel luogo alto ci dà uno spintone adesso tu devi cambiare. Devi recuperare a quelle che ancora non hai fatto. Devi crucifigere la tua carne. Lo spirito santo che scende in noi è spirito di purificazione. Manderei il tuo spirito su di voi e purificherà i vostri peccati. Questa è la privazione dello spirito. Convincici di peccato e purificarci dal peccato perché non possiamo dirci a Cristo e rivestirci di Cristo a vita luna nativa se prima non passiamo per una purificazione profonda e dello spirito che ci porta a questa purificazione profonda, a questo svestimento del nome vecchio perché il nome nuovo non può vivere in noi. Diceva Paolo ci sono tanti tra di voi anche il viceletto che dovremmo essere super vestiti senza spogliarci, no? Non possiamo indossare due vestiti mantenere il vestito vecchio e sul vestito vecchio mettere il vestito nuovo ma dobbiamo prima svestirci del nome vecchio e rivestire il nuovo nuovo. E' un'emergenza questa, fratelli e sorelle che io sento vivere dentro il mio cuore e di cui le faccio proclamatore. Nei nostri gruppi dobbiamo recuperare questa dimensione proprio all'eserci dello spirito lo spirito prima di vestirci di Cristo prima di darci dei grandi doni prima di metterci nella contemplazione di Cristo risolto devi purificarci. Viverò un cuore nuovo toglierò il cuore di pietra finché il cuore di pietra non venga tutto finché noi non siamo purificati dai nostri peccati non possiamo andare avanti perché può succedere e succede che ci ridiamo di essere formali dello spirito di avere dei nomi di essere nella luce e dimentichiamo che perebre ancora adesso dentro di noi che ancora la carne si rivella che ancora il vecchio albero della conoscenza del bene e del male non è più di noi dei dagli soffritti che ancora c'è invidia di evasilia fornicazione asprezza contesa contesa furto tra i nomi c'è l'albero vecchio ancora vivo non è morto sì è stato inestrato l'albero nuovo ma sotto pugno non ancora i palloni dell'albero vecchio che noi colpiviamo che noi lasciamo crescere bisogna potare 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 come diceva Gesù potare 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 in modo che si dia forza all'innesto nuovo in modo che Cristo in estate noi possa dare i suoi frutti e all'ora recuperare questa dimensione ascetica questa dimensione di purificazione lasciare che lo spirito generifichi la mente il cuore i sensi in modo da assomigliare a Cristo perché come dice Paolo non si può dare che il capo in una maniera e lo membra di altra maniera la membra debba avere insomiglianza con il capo conformità con il capo ecco perché lo spirito santo vuole rendersi conformi in questa amputazione in questa in questo lavoro di ascesi di faticoso lavoro vuole rendersi conformi a Cristo Signore portare la morte di Cristo un uomo vecchio è stato così visto in noi ed è nato un uomo nuovo e dobbiamo recuperare un'altra dimensione la dimensione contemplativa anche io qui arsa la voce la contemplazione differisce dal baccano dal canto dalla danza sì ci può essere un momento di contemplazione collettiva però la dimensione contemplativa esige di più dobbiamo andare al tabor la trasfigurazione Cristo è lunioso sulla montagna Mosè e di Lio stanno accanto a lui discorrono della sua morte perché calvario e tabor vanno insieme morte di risoluzione vanno insieme i testi scritturistici padrono naturalmente dice Pietro io sono partecipe come anziano delle sofferenze di Cristo e della sua gloria e dice Paolo vi potete rifiutare perché io conosca di essere partecipe della sofferenza di Cristo e della sua risurrezione ossia la partecipazione è simultanea prima però precede nel tempo ossia in abbondanza la purificazione e poi la trasfigurazione però quando recuperiamo la dimensione ascetica purificatrice della nostra vita dobbiamo recuperare la dimensione contemplativa rivestirci di Cristo rivestiteli di luce contemplare Gesù sul taburo la luce del taburo investe Pietro Giacomo e Giovanni contemplano la gloria di Cristo per questo lo diciamo annunziamo la tua morte signore proclamiamo la tua risurrezione ma la risurrezione dobbiamo portarla dentro di noi il Cristo risorto deve esplendere nel nostro volto nella nostra vita nuova il Cristo diventa in noi il Cristo risorto si viene Cristo morto e sofferente ma non è Cristo risorto gli uomini devono vedere le opere nuove le opere di Cristo in noi e glorificare il Padre tu porti Cristo risorto ma per portare Cristo risorto bisogna entrare in questa dimensione contemplativa recuperare nei nostri gruppi la dimensione contemplativa la preghiera contemplativa questo stare con il Signore perché tante volte noi ci dissipiamo con canti con suoni con festoni alle volte i nostri gruppi sembra di assistere alla discoteca sacra si questo canto questa gioia ci vuole quando l'espressione di una vita nuova dentro di noi di un risorto che vive in noi ma quando in noi non c'è il Cristo risorto c'è il nuovo vecchio quei canti quei danze quel giubilo è fuori luogo o un giubilo falso un canto falso una danza falsa perché non è espressione di una vita interiore e qualora bisogna recuperare la dimensione contemplativa in modo che il Cristo risorto rifulga nei vostri occhi rifulga nei vostri sentimenti rifulga nei vostri comportamenti adopera il merissimo spirito perché lo spirito che ci forma e ci lavora continuamente è lo spirito che mette in noi i pensieri di Cristo è un'operazione difficile ma che lo spirito combia giorno dopo giorno e finché lo spirito non cambia la nostra mentalità ancora non siamo dei risorti finché non abbiamo la mentalità cristica ma ci ci rimane la mentalità umana noi ancora non abbiamo il cambiamento non c'è il cambiamento non c'è il passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo se noi ne pensiamo come gli uomini di questo mondo se non per noi ancora il denaro ha valore la bellezza ha valore se i piacere nel mondo hanno valore noi ancora apparteniamo al vecchio uomo al vecchio mondo non guardiamo con gli occhi di Cristo non guardiamo nella verità perché è una verità che ci rende liberi e guardando con gli occhi di Cristo giudicando con il giudizio di Cristo noi possiamo avere un momento interno tale da giudicare a tutti e a tutti e non essere giudicati gridava Paolo proprio nella seconda espressione cioè nel secondo capitolo della prima letta di Corintica versetto 16 gridava noi abbiamo il pensiero di Cristo ed è lo Spirito Santo che crea l'affinità crea l'affinità con Cristo il nuovo l'ezzio l'uomo di questo mondo l'uomo razionale un uomo unico materiale non percepite non percepisse le cose dello Spirito per cui sono fornì perché perché non c'è affinità è lo Spirito che crea l'affinità con Cristo col pensiero di Cristo col modo di venere e di operare di Cristo finché lo Spirito Santo non investi in noi l'opzione fondamentale sua che era quello di fare la volontà del Padre quello che piace al Padre io faccio sempre finché noi non dominiamo la volontà del Padre finché noi non viviamo con gli occhi rivolto al Padre e non diciamo come Gesù quello che piace a lui io faccio sempre ancora il Cristo risolto con lì e noi se come dice l'Apostolo agli ripesi non abbiamo i sentimenti di umiltà e di obbedienza che sono i sentimenti più profondi di Cristo imparate da me che sono i miei di cuore finché non avete in voi questi sentimenti ancora non siete di Cristo abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù il quale possendo di natura divina non continuerò un vantaggio per sé ma un minioso stesso fino alla morte alla morte di croce e si mostrò abbediente al Padre per questo Dio l'ha esaltato finché l'obbedienza di Cristo non penetra in noi l'inultà di Cristo non penetra in noi ancora non abbiamo i sentimenti di Cristo ancora non abbiamo imparato da lui ad essere vita di lui di cuore ancora non si vede risorto dentro di noi e quando le nostre operazioni le nostre opere non solo di opere di Cristo ma di opere dell'uomo e l'uomo vecchio che ancora opera ma non è il Cristo che opera in noi che vive in noi bisogna recuperare la dimensione contemplativa perché il Cristo risorto vive dentro di noi nella mentalità nei sentimenti e nelle opere comparire davanti gli uomini come Cristo per tutto questo a scapito del nuovo vecchio portiamo allora la morte di Cristo nel nostro corpo e annunziamolo nel nostro spirito ma le sue e nel cielo di Cristo il risorto vive vive in questo mondo presentiamo il Cristo vivo nella nostra vita in modo che gli uomini vedono contemplano ancora Cristo e riconoscono che il Padre l'ha mandato per la nostra salvezza la parousia in attesa dalla sua venuta è una terza dimensione che dobbiamo recuperare non siamo diventati sedentari non più nomadi abbiamo perduto il senso del pellegrinaggio e della precarietà della provvisorietà del nostro cammino terreno ci siamo fabbricati in una città una città terrena dove abitare anche i nostri rupi ci siamo adagiate ci siamo fabbricati in una città terrena il nostro posto di lavoro la nostra sedia la nostra attività i nostri carismi esercitati i nostri ministeri esercitati abbiamo dimenticato che tutto è promisorio che siamo in cammino in cammino verso la Patria ci siamo in una città celeste non più in una città torrena siamo ospiti e pellegrini in questo mondo bisogna recuperare questa dimensione siamo ospiti e pellegrini siamo in cammino verso la Patria la nostra giusta venanza e quella celeste siamo stupi e pellegrini in cammino di purificazione in questo mondo indossiamo le armi della luce con cui noi saremo in cielo le indossiamo già fin da questa terra ma dobbiamo camminare non possiamo fermarci perché il Signore viene la cristianità primitiva viveva intensamente la dimensione della parosia la dimensione scatologica cioè pensava al futuro il Signore viene il Signore verrà e lì saluto che ci davano i cristiani oggi noi ci diciamo si è levato Gesù Cristo quando lo diciamo perché anche nei nostri gruppi diciamo ciao 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 a occhi i primi cristiani dicevano ma la natale ma la natale Cristo è venuto Cristo viene Cristo verrà ma la natale oppure l'inducazione viene il Signore di Gesù viene il Signore il Signore vicino unito a Pietro il Signore vicino unito a Paolo nella lettera e testore vicese viviamo allora in attesa della venuta del Signore sapete che cambia il modo di vivere quando l'uomo è in attesa e alla vigilia è in viaggio di pensiero e verso la meta dobbiamo dobbiamo recuperare questa dinamica della meta che viene perduta noi siamo diretti e dobbiamo reggire la meta le nostre forze debbano essere conmogliate in vista della meta per raggiungere questa meta è Gesù che viene e vivrà è sicuro come l'anora che vivrà già ci diceva il profeta Abba Aspettate e vivrà anche le scritture del Nessio Testamento alimentavano questa venuta di Cristo sulla terra ma il Nuovo Testamento alimenta la seconda venuta di Cristo quando Gesù ascende al cielo gli angeli dicono un uomo mi credeva che è stata a guardare in alto quel Gesù che viene visto ascese al cielo ritornerà e Gesù diceva quando verrà il figlio dell'uomo la seconda morte che è la terra che cosa verrà nel capitolo 25 della di Matteo Gesù spaccando il cielo viene e si è da giudicare tutti gli uomini i livei morti la pecore e i carri ma il Signore viene nell'attesa della sua venuta dobbiamo comportarci come figli della luce abbiamo visto il bellissimo testo che è stato proclamato di Romani tredici che vogliamo rileggere in questa luce no tredici tredici questo questo voi farete consaperevi del momento io ho mai tempo di regalarvi del sonno perché la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti la notte è passata già lansato il giorno gettiamo via le opere dello tenebre comportiamoci nella visione alla vincere perché il Signore è vicino questo benissimo è sviluppato nella lettera dei Tostolevicesi prima ed è ripreso nella seconda lettera dei Tostolevicesi e nella lettera dei Corinti parlo rivolgendo i sei cristiani capitolo settimo della prima lettera dice quelli che comprano come se non comprassero quelli che prendono marito come se non lo prendessero quelli che prendono moglie come se non lo avessero perché passa la figura di questo mondo ecco la precarietà tutto è provisorio non dobbiamo attaccarci alle cose della terra perché la nostra vera patria è il cielo ma questo risultato ci deve essere il biglietto di ingresso la testa perché non si vengono in cielo senza la testa senza il biglietto di ingresso che il Signore ci dà ma dobbiamo attendere il Signore che viene se noi arriviamo a recuperare questa terza dimensione allora la nostra vita cambierà perché se noi fissiamo qui la nostra dimora diventiamo un popolo sedentario guardate cosa succede a me come gli ebrei gli ebrei finché erano nomadi avevano Dio seguivano l'arca nel deserto mangiavano la manna da vedere l'acqua dalla roccia anche con gli uomini e gli uomini si non prendono fedeli a Dio ma quando il popolo israelitico diventa sedentario si viene all'elatria alla prostituzione alla vita mondana e dimentico il suo Dio dimentico di essere il popolo eletto e di il popolo sedentario quando quando ci fabbricchiamo una città dove abitare tutto è precario nella nostra vita siamo obbligati a fabbricare la città terrena con gli occhi rivolti in alto alle città celeste dobbiamo riordinare a Dio tutte le realtà terrene soprattutto voi laici avete questo compito di riconsacrare il mondo al Signore di sottomettere di nuovo al potere di Dio tutte le cose di riordinare le realtà terrene in attesa della revisione finale però mentre si lavora per questo riordinamento delle realtà terrene gli occhi debbano essere fissi alla città celeste ci dice l'autore delle lettere degli avrei e allora usciamo usciamo dall'accampamento usciamo fuori nei nostri accampamenti seguendo Cristo Signore ecco il Signore Cristo fuori dall'accampamento gli occhi fissi a colui che è il perfezionatore della nostra fede a colui che cammina avanti a noi che apre tutte le brecce che ci porta alla città celeste vivere un po' l'apocalisse dentro di noi cioè vivere in questa attesa del Signore vivere per i tempi futuri perché Cristo è già da molto alla realizzazione della vita nello spirito lo spirito si muove lo spirito non è fermo e allora quando noi viviamo intensamente la morte di Cristo la passione del Signore che riproduciamo in noi nella somiglianza a Cristo crucifisso proviamo già una consolazione per questa somiglianza per questa conformità quando noi ci abbeveriamo della resurrezione di Cristo la luce di Cristo penetra in noi e guidiamo in noi l'Io di Cristo innistato al nostro Io quando percepiamo che non siamo noi a vivere ma è Cristo che vive in noi non sono io che vivo ma è Cristo che vive in me e allora questo ci riempie di gioia allora noi siamo nella consolazione perché siamo di Cristo viviamo il Cristo siamo del Signore e viviamo del Signore quando matura in noi questa coscienza che non siamo di noi non siamo negli altri ma siamo di Dio allora si verifica in noi la declinazione mistica che è molto bella qual è la declinazione mistica? chi sa di latino sa il nome nativo genitivo dativo accusativo vocativo ablativo questa viene in noi ma pur innanzitutto il genitivo che troviamo in Paolo voi siete di Cristo Gesù come è bello il momento in cui gli apostoli quando ricevono lo Spirito Santo quando si dividono catapultati in un altro e diversi prima di vivere in se stessi paurosi mestri adesso si sentono catapultati in un altro in Cristo Gesù la luce di Cristo la forza di Cristo l'aldore di Cristo si impossesse di loro e vengono spallancate le porte e sono in mezzo le piazze ad annunziare Cristo che vivono hanno la coscienza di essere di Cristo poi matura la coscienza di essere per Cristo noi non viviamo più per noi ma lavoriamo per un altro noi viviamo per le cose nostre per la nostra casa per i nostri affari per la nostra famiglia sono cose buone ma terrene che devono essere verificate dobbiamo vivere per Cristo è il suo regno che importa è la gloria del padre che importa siamo di un altro viviamo per la causa di un altro non possiamo fare gli interessi dei morti noi siamo dei morti lasciate che i morti si perdiscono i morti noi siamo dei vivi viventi in un altro ecco lo catenomistico viviamo in un altro ed è Cristo Gesù voi tutti che siete in Cristo Gesù per cui viviamo in un altro siamo di un altro dobbiamo lavorare per un altro e quello che dobbiamo gridare sempre perché il dente cioè la lingua batte dove il dente duele ecco il bocca catenomistico gridiamo Signore Gesù perché sentiamo il bisogno una volta che siamo di Cristo per Cristo di Cristo di gridare Signore Gesù di gridare a Colui in cui siamo e di cui siamo ed è allora che incomincia la trasformazione vera il nominativo mistico maturi in noi la coscienza di essere Cristo non sono io più che vivo ma è il Cristo che vive in me non sono più io ma è il Cristo sentiamo che Cristo vive dentro di noi è il lui che occorre dentro di noi e subito succede l'accusativa mistica cioè facciamo il Cristo operiamo il Cristo diamo il Cristo produciamo il Cristo in mezzo agli uomini e qualora come si vive questa dimensione della resurrezione di Cristo in attesa dalla sua venuta lavoriamo in attesa che lui si manifeste e quando lui si manifesterà andremo tutti incontro a lui Paolo Paolo ci descrive ha detto questo momento meraviglioso Cristo che comparisce nell'umbi e tutti i viventi e non viventi i morti vivi andremo incontro a lui e il Signore trasformerà il nostro corpo nel corpo spirituale e saremo sempre con lui allora noi comprenderemo questa grande verità che inunciava già Giovanni ci chiamiamo figli di Dio ma lo siamo non è soltanto questo che ci chiamiamo figli di Dio ma in realtà lo siamo quello che noi siamo dice Paolo ancora non lo sappiamo ma lo sapremo un giorno quando Cristo si manifesterà allora prenderemo coscienza dell'essere nostro allora la consolazione sarà massima ma già possiamo assaporare camminando in questo mondo questa consolazione che portiamo dentro di noi perché ormai la notte è passata il giorno avanza perché ormai andiamo verso la gloria futura e allora tutti i patimenti di questo mondo tutte le prove tutte le cosevisioni tutte le rinunzie che comportano questo portare alla morte di Cristo si cambieranno in gioia in consolazione perché la gloria che ci attende è tanto grande come Gesù avendo davanti si occhi la gloria che il padre riservava sostenne volentieri la croce così anche noi sosteniamo le sofferenze terrene in attesa della gloria e qui è la grande consolazione la consolazione permanente che lo Spirito Santo opera dentro di noi vivendo sempre con noi Amen applausi